Con l'approvazione del piano sociosanitario regionale del 2012, la sanità bellunese è colata a picco. Questa in sintesi la perentoria conclusione dell'analisi condotta dai Comitati per la Salute di Pieve di Cadore e Agordo sull'andamento dei servizi sanitari nelle terre alte, un'offerta che è andata via via riducendosi, cosa che ha penalizzato in particolare i settori dell'emergenza, urgenza, chirurgia e cardiologia con il taglio di 380 posti letto per acuti in provincia. Una situazione, dichiara Guido Trento, che ha portato allo sviluppo della sanità privata e a un clima di generale sfiducia nel futuro, vista anche la tendenza allo spopolamento e all'invecchiamento della popolazione. Chi vive oggi, diciamo, in comelico per dire se ha un trauma tempodipendente e l'elicottero non dovesse volare a rischio di morte certa, molto, molto alto rischio di morte certa. I comitati avevano provato a intercedere presso l'ex direttore della Sanità Veneta, Luciano Flor, ottenendo un piccolo risultato che però al momento non sta trovando riscontri pratici. Prima che questi ospedali avevano le unità operative complesse che lavorava giorno e notte. Noi abbiamo fatto una proposta alla Regione che possa mettere in dipartimento con Belluno l'estensione del servizio a Pieve di Cadore e d'Agordo, servizio quindi di chirurgia d'urgenza e con reperibilità notturna e festiva però da Belluno, quindi con un unico dipartimento. La delibera è stata fatta dalla Regione Veneta esattamente il 30 del 12 del 2022 e questa delibera dà questa possibilità. Oggi noi non sappiamo perché non viene attuata. Noi abbiamo battuto e battagliato tantissimo per ottenere l'autonomia di questa provincia per poter appunto garantire i servizi fondamentali, uno di quali forse il fondamentale è proprio quello della salute e quindi la salvezza dei nostri ospedali con i reparti che funzionano perché abbiamo purtroppo notato ormai da tempo che questa provincia, soprattutto la parte alta di questa provincia, sta morendo.